Sono ingenti i danni causati dall'ultima ondata di maltempo alla foce del fiume Mingardo e sulla spiaggia dell'Arco Naturale. Ci siamo attivati immediatamente per avviare il ripristino delle aree danneggiate con un intervento di somma urgenza. Intanto è quasi ultimato l'iter per la messa in sicurezza dell'Arco Naturale e per la sistemazione della foce del Mingardo per un totale di circa 10 milioni di euro, a comunicarlo il sindaco Carmelo Stanziola. Abbiamo trovato la strada di ingresso all'Arco Naturale interrotta perché è smottata e quindi è finita nel fiume. Le reti di protezione dell'Arco Naturale pressoché di velte, materiale accumulato sulla spiaggia, la situazione è veramente brutta. Quest'anno o più degli altri anni. I mesi scorsi, precisamente a gennaio e a novembre, abbiamo fatto delle richieste alle regioni campane perché contribuisca a farci risolvere questo problema. Ma nel frattempo, noi prima di Pasqua o comunque nell'imminenza, non possiamo lasciare la situazione in questa situazione e quindi con interventi di somma urgenza o di necessaria urgenza dobbiamo ripristinare lo stato del ruolo. Colgo l'occasione per rassicurare sia chi frequenta questi luoghi ma anche gli operatori, in pratica gli imprenditori turistici, che noi stiamo facendo di tutto perché in tempi strettissimi si possano ripristinare questi luoghi.